Ciao a tutti! Oggi prepareremo il merluzzo in crosta di pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono filetti di merluzzo, granella di pistacchi, pan carré, olive verdi snocciolate, parmigiano grattugiato, olio evo, basilico e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pan carré, il basilico, le olive verdi, il parmigiano, il sale e l'olio. Ed azionare il bimbi per 5 secondi a velocità 7. Aggiungere la granella di pistacchi ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 1. La panatura è pronta, trasferire in una ciotola. passare i filetti di merluzzo nella panatura e trasferirlo in una teglia rivestita con carta da forno. mirorare la superficie con un filo d'olio e cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. il merluzzo è cotto, impiattare e servire. merluzzo in crosta di pistacchi grazie e alla prossima ricetta il bimbi per 30 secondi a velocità 08 gradi per 20 secondi a velocità per 20 secondi a velocità del bimbi per 20 secondi a velocità per 20 secondi a velocità di riscaldanza. Grazie a tutti.